Lui è Gianluca Baretti, Dialdo e Franca Baretti, percoce nel sesso e lento e tutto il resto. Lei è Cinzia Del Rio, figlia di Meo ed Emilia Del Rio. Due grandi passioni, la caccia e Gianluca. Stanno insieme da due anni ed è un record per entrambi. Mi avevi cercata? Ecco, quello che mente sono io. Sì, ma non era importante. È evidente che questo è il confine tra gli Stati Uniti e il Messico. E dove vuoi scappare? A Berlino. E perché? Perché, hai visto dove stiamo? Ti piace qua? È venuta a trovare la maestra Maria. Apparecchia per la signora maestra. No, grazie. Dai, va bene la sedia, su! Buongiorno. Ciao. Siamo amiche bestie, eh? O no? Gianluca! Tu anche avrà avuto un incidente. Dove viene? Si chiama Maria, fa la maestra. Cinzia! Non do it! Ma treme le peggone! Non do it!